Radio Vincent con Vincent Lionheart, lampi del pensiero libero e quotidiano. Cari amici e carissime amiche di YouTube e di tutti i social, un cordiale saluto dal sottoscritto da Vincent Lionheart o se preferite semplicemente The Lion. Mi raccomando like, like e like al video. Yeah! Fuoco che prelibatezze sa donare. Questo è il nostro nightclub, show trascendentale. Ti amo, mia vera sirena. La vita che percorro rendi divina. Grazie. 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 Grazie.